e ho perso la chance di mettere i pilastri in più, giolli, che mi sarebbero potuti servire se magari avesse avuto per implantita e doveva magari dopo vent'anni togliere uno o due impianti. Lavoro non va rifatto, si svitano con gli impianti e si riavvita il lavoro che aveva. Tutto quello che si poteva fare a livello di chirurgia è stato fatto, tutto quello che si doveva fare a livello di protesi non è stato fatto, perché sulla protesi si va a spendere molto per farla come si deve e soprattutto la protesi è il settore che è in ampia evoluzione, soprattutto ora che sono stati inventati software come per esempio Exocad, voi l'avete visto, ma non c'è solo Exocad, ce ne sono anche altri, che ci permettono di progettare le protesi tutte col computer. Mentre le protesi in resina sono delle protesi, potremmo dire, fatte a mano, quelle analogiche, le protesi per esempio in zirconio, le strutture in pecto, metallo, oggi possono essere fatte col computer. Il computer ci permette di mantenere in memoria, come alcuni di voi ho detto stamattina, la forma dell'automobile. Cioè io faccio il progetto una volta, l'auto la posso ristampare quante volte voglio. Prima le automobili, ovvero le protesi, erano fatte a mano, da degli artisti che facevano lo sportello, facevano le ruote, il telaio, però cosa succede? Che se uno sportello si rompe, devo chiamare quell'artista, me lo deve fare uguale, però guardando probabilmente sarà un po' diverso. Probabilmente potrebbe essere disassato, perché è fatto a mano? Non posso fare a mano una replica esatta, e quindi standardizzare il processo di produzione. E in bocca abbiamo 28 denti da replicare, e ogni singolo dente può essere soggetto a rottura negli anni. Quindi la tecnica digitale ci aiuta, uno ad abbattere i tempi di produzione, ma soprattutto a standardizzare quelli che sono i volumi, gli spessori dei denti rispetto alle strutture interne. La durata dei lavori dipende dal volume che io do al singolo materiale di rivestimento della struttura interna. A mano è difficile dare in maniera uniforme, a 360 gradi, questo volume. E quindi succede che nel punto più sottile o di minore resistenza è possibile che si apra la frattura, che ci sia la frattura, quindi la rottura del materiale. Questo tipo di produzione dei denti è iniziata anche questa circa 20 anni fa, ovvero 20 anni fa sono nati i primi fresatori per il dentale, si chiamavano il Serec, non so se qualcuno li avrà visti da qualche dentista, voi ci avete la laurea quanto me ormai, chi ha avuto, ecco qua, non so se l'avete mai visto sto macchinario. Questo è un fresatore da studio, c'è il software dove si progetta la singola capsula, il singolo dente, qua di fianco c'è un fresatore che va a stampare quello che si progetta con il computer. Questo è un giocattolo rispetto a quello che abbiamo noi, questo è un giocattolino che va bene per impressionare il paziente, gli fai vedere che c'è la telecamera intraorale, ma questo è un fresatorino che il massimo che ti fa sono due o tre denti. Noi i pazienti che curiamo ogni giorno sono pazienti che devono fare riabilitazione completa della bocca e fanno lavori, vi faccio vedere adesso, qua, entriamo sul gruppo Facebook che si chiama Exocad Designer, top 5%, qua ci sono i designer di Exocad a livello globale tutti connessi, 1600 quasi designer. I tipi di lavori che noi andiamo a produrre sono lavori di arcate complete con questo Exocad. Ok, questa per esempio è un designer che qua ha pubblicato la sua struttura, questa viene fatta tutto col computer. Per questo genere di lavori servono software più sofisticati come per esempio Exocad, ma c'è anche TreeShape, Dental Wings, sono tre i software che si usano, come dire iOS, Android e un altro. In questi ambienti si può fare grossomodo le stesse cose, uno è un po' più chiuso come Apple, l'altro un po' più aperto come Android che posso fare tante cose diverse e sono software che vengono utilizzati non solo per il dentale ma anche dei moduli per altro tipo di chirurgia protesica, magari chirurgia del cranio o della colonna vertebrale. Questi tipi di, queste forme, io le posso stampare in più materiali, le posso stampare in petto, se ci metto un disco di plastica la stampo in plastica, se ci metto platino la posso stampare in platino, quello che non cambia è la replicabilità, ovvero io posso replicare con più materiali sempre la stessa forma. Questo significa che in caso di rotture negli anni, se c'è un problema, invece che partire da zero, riparto da nove, da otto. Non devo rifarmi tutto il progetto, riverificare, devo che ne so, ho delle rotture sui settori premolari, è sicuro un problema di occlusione. Ho un problema frontale, dente che si scheggia, può essere un problema o di materiale, che non è adatto a quel settore, come era stato per esempio con Giuseppe, le prime rotture erano state anteriori. I canini. No, incisivi laterali erano. Ancora mi ricordo. Canini. Comunque anteriori, non erano molari. Quando abbiamo ingolato i canini, poi erano partiti i piccoli. Sì, tutti anteriori. Ed era, semplicemente avevamo usato delle faccette, era sempre una struttura ritentiva come questa, ma avevamo fatto praticamente uno strato interno in composito assorbente per i carichi masticatori, che desse guida di disclusione, e davanti avevamo fatto delle faccette. Le faccette si comportavano in maniera differente, più rigida rispetto alla parte interna. Questo portava la parte di unione a staccarsi, ma questo era un carico flessorio, cioè un problema di tipo flessorio, allo strappo. Come si risolve questo? Fai un materiale monoblocco, quindi delle corone che sono monoblocco, come per esempio qua, che si vanno a incastonare direttamente sopra, anche a una forza dislocante, questa regge. Ok? Non era così ovvio, nel senso che quando sono materiali, questi che usano in pochi nel mondo, non puoi andare di fianco a casa e dire tu come lo fai. Devi andare da chi ne ha avuto tanti di problemi. Allora sono andato da chi, e sul web devi fare molta attenzione, perché è anche quindi corsi che vengono organizzati, perché non avete idea di quanti soldi vengono spesi in pubblicità, anche a livello di corsi. Cioè tu pensi che una cosa magari funziona, ma in realtà non è che funziona. Quelli sono opinion leader che vengono pagati dalla casa farmaceutica per dire che funziona, ma non è così. Chi è che ti dà la soluzione, non le trovi ai congressi, le trovi dagli odontotecnici. Gli odontotecnici sono quelli che fanno le protesi da tanti anni, con parecchi tipi di dentisti diversi. Tutti i casini, loro li vedono. Vedono cosa funziona e cosa non funziona. Pratica, batte grammatica. Vai da chi ne fa tante, li risolve, li ha risolti e ti dà la soluzione. Alla fine, trovavo che tutti mi davano la stessa risposta. Guarda che la plastica ad oggi non si usa più. Abbiamo avuto tutti questi problemi, li abbiamo risolti in questa maniera. Serve una struttura di rinforzo sotto, perché le strutture, vi faccio vedere per esempio lo zirconio, ho fatto da poco sul gruppo dove vi facevo vedere proprio delle strutture in zirconio roto. Allora, full arch, full arch, zirconio, broken, ok, questa per esempio, una struttura come lo zirconio, se non ha la, ecco qua, il supporto interno di una struttura metallica, quello che succede è questo. Dieci anni fa ti dicevano che lo zirconio era il miglior materiale per fare le arcate complete. La verità, due, l'anno scorso il mercato dello zirconio è crollato del 70%, perché hanno iniziato a circolare sul web con i gruppi Facebook le foto delle arcate in zirconio rotte. Ok, ma chi le aveva già viste rotte le arcate in zirconio aveva capito che lo zirconio non è che va male, ha bisogno di supporto sotto lo zirconio. Semplice, è fare tanti piccoli punti di rottura o due o tre, quindi o corone singole oppure fare blocchi di due, tre, quattro, ma non quattordici interi, perché poi il metallo ha un tipo di distorsione che quando ne andiamo ad accoppiare lo zirconio potrebbe fratturarsi. Allora facciamo dei punti di spaccatura, di rompiforze, come la montagna le strisce tagliafuoco, no? Evitiamo che, oppure i binari del treno che hanno i punti poi di stacco tra ogni tot chilometri c'è lo stacco. Non è così, per voi può essere scontato che ve lo dico, ok? Ma vi assicuro che se voi andate da un dentista sotto casa e gli chiedete qualcosa sui concetti che vi dico, ha tanta confusione in testa, perché non ne fa innanzitutto. E se va ai corsi è molto probabile che va a un corso di malò, che gli insegnano malò, di malò, portoghese, ok, che insegnano che la resina va bene. Ah, ok. Ok, se tu volessi trovare qualcuno che ti fa un lavoro del genere nel, non dico in Italia, in Europa, ok, devi andare in pochi centri che ne fanno tanti di questi, ok, e sono centri che hanno dei modelli di lavoro con il paziente estero, ok, per esempio Ungheria, per esempio devi andare in Romania, qualcuno in Croazia, perché comunque a Croazia i costi sono alti, ma soprattutto in Romania, in Romania ne abbiamo trovati tantissimi, ok, tra cui c'è stata anche Zolta, un collega che lui convogliava tantissimi lavori di cliniche che da vent'anni facevano turismo medico, ok, a livello odontoiatrico. Lui poi, ma tanti altri che ci sono a livello globale, stanno tutti in dei gruppi, ok, e lavorano tutti chissà perché allo stesso modo. Quindi le soluzioni sono un po' diverse da quelle che vengono pubblicizzate nei libri magari scritti cinque anni fa, con pregresso di 15 anni prima, perché 15 anni prima Exocade non c'era, Exocade è nato 6-7 anni fa questo software, molti materiali fresabili, così, sono venuti sul commercio 3-4 anni fa, sono materiali questi che sono molto, molto, molto nuovi, che danno un range di soluzioni molto più ampio rispetto ai materiali precedenti, il problema è che non sono diffusi in maniera capillare nelle nazioni ricche, quindi nelle nazioni costose, ipertassate. Quindi c'è di contro che se tu vuoi fare dei lavori con materiali che sono iperperformanti, nel tuo paese non li puoi fare, perché non c'è abbastanza diffusione a livello di corsistica di questi materiali e anche se uno arriva alla soluzione che deve fare questo, gli serve chiedere al paziente non meno di 20.000 euro ad arcata. Quindi il paziente non c'è, quindi dice perché devo implementare questa roba se non c'è comunque la richiesta?